Ora è un momento un po' unplugged, nel senso un po' più elettroacustico, più tranquillo. Vediamo cosa ne esce. Potrei stare ore e ore qui, ad accarezzare la tua bocca e i tuoi zigomi, senza mai parlare, senza ascoltare altro, nient'altro che, il tuo respiro crescere, senza sentire altro che noi, nient'altro che noi. Potrei stare fermo e immobile, solo con te addosso, a guardare le tue palpebre, chiudersi a ogni passo, della mia mano lenta che scivola, sulla tua pelle umida, senza sentire altro che noi, nient'altro che noi. Non c'è niente al mondo, che valga un secondo, vissuto accanto a te, che valga un gesto tuo, con tuo movimento, pertenente al mondo, mi ha mai dato tanto, da emozionarmi come quando siamo noi, nient'altro che noi. Grazie!